Questo test in cosa consiste esattamente? Il test consiste in un autotest, tipo i test della glicemia per intenderci, un foradito per creare la gocciolina di sangue, questa è la pipetta che noi usiamo per togliere il sangue direttamente, ovviamente senza altre manipolazioni, può farlo anche il cliente direttamente, è un autotest, disinfettante, cerotto, fine. Dopodiché, io il test aperto non glielo posso far vedere ovviamente, comunque c'è un reagente che noi mettiamo sulla gocciolina di sangue che dà la reattività del test alla presenza di anticorpi. Che attendibilità ha questo test? Ha una buona attendibilità, altrimenti non sarebbero stati selezionati, questi sono stati selezionati dalla regione, non sono test su questo, però mi devo fermare perché noi arrivano e... Si è già presentato qualcuno per fare il test? Da noi ancora no, immagino in altre farmacie sì, però le ripeto, dovete aspettare domani, almeno domani, cioè bisogna avere un minimo di statistica, questa presenza, questa reattività viene segnalata? Dopo si passa direttamente al medico di base. Al medico di base viene segnalata? Certo, non facciamo diagnosi. Grazie. Grazie.